ciao a tutti e benvenuti a bordo del piccolus si immergerete con me per fendimila lecche e andremo ad esplorare le meraviglie degli abizi che grossa valido quella è una sardina ho visto di meglio in una vasca di pesciolini rossi professore se non erro ho detto che avremmo esplorato le meraviglie degli abissi sei sicuro di voler vedere quelle meraviglie oh sì sì che lo voglio bene allora che stiamo aspettando fai con l'immersione un pesce cane mammo oh e questo è niente wow uno scuolo tigre non so cosa sia ma mi piace tanto è sufficiente come meraviglia veramente vorrei cercare delle antiche rovine sommerse o delle sirene o il leggendario mostro degli abissi il kraken caro il mio ciofanotto tutti al mondo vogliono vedere il kraken ma le possibilità di vederne uno tono zero virgola zero 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 Topolino, forse è meglio se io tengo d'occhio il sottomarino per il fatto che alle medie avevo la sufficienza nelle materie tecniche Beh, almeno esploriamo in cerca del professore C'è una facciata che non mi piace Guarda, una lumaca di mare Basta, dai, moriamoci Oh, rilassati, Pippo ci tiene d'occhio Mmm, questo orologio sembra rotto Forse l'ostrica è... È buio, buio pesto qui sotto Pippo, mi senti? Qui ci serve più luce Detto fatto Grazie, lo ha dritto No, più manca Che dici, paperino? Oh! No! No! Pippo, ma che succede? Voglio aspettare questo orologio Ecco qua Guarda, laggiù! Due belle sirene Ehi là, fanciulle! Oh, avete visto per caso? Ok Stringimi Ed ogni notte, amore, abbracciami Con quel tuo sguardo mi fai sciogliere Ti voglio avere sempre accanto a me Qui c'è scritto che la mancanza di ossigeno può causare allucinazioni Francese, la lingua dell'amore Ehi, che buzza! Mi dispiace tanto, paperino Volevo esplorare le meraviglie degli abissi E ora siamo finiti dentro una di loro Per sempre È tutta colpa mia Sono un compagnolo Ecco che è colpa tua Oh? La strica del professore! Ma come siamo da qui? Ci sono! Pippo, accendi le luci! Sì, capitano! Attiva quell'orologio! La prossima volta! Mamma mia! Perché ci rispondono tutti allo stesso modo? Ma ciò che faremo! Sì, che ce lo faremo! Professore! Professore! Zero, 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 tre, quattro, uno Oh, Eureka! C'è una possibilità! Chi viene a cercare il Kraken? Oh, oh, io! Oh, 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 oh!